No, no, è certo che lo sono, scusa. Dai, va bene. Eh, va bene, me lo ricorderò e lo farò. Facciamo un'altra ripresa? Vabbè, te la senti? C'è, dopo, lo batteriamo, no? No, non so, non so. Sono solo un petto, non so. è una cagata e quindi ho detto si va beh però è figo perché si può fare il volo all'indietro e uso la tecnica che mi hai detto tu si dell'alettone si dell'alettone un decollo eh un decollo 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti